Ciao, oggi vi parlo di Paul Hoffman e della saga di Thomas Cale, La mano sinistra di Dio. È una trilogia di fantasy un po' particolare, il primo libro molto molto bello e poi si va un po' decrescendo, nel senso che il secondo e il terzo sono un po' meno belli, però è molto originale come serie. Attualmente è stata ristampata in un unico volume dalla Thea, quindi tutti e tre i libri in un unico volume. Provate a leggerla e traetene voi le conclusioni. Quanto meno il primo libro è davvero meraviglioso, è una cosa innovativa e molto molto particolare. Per il resto purtroppo è calato un po'. Thomas Cale è un ragazzo invincibile che vive nel santuario dei Redentori. Provate e vedete cosa ne pensate. Ciao!